Lui è Ciro. Gli piace mangiare tanto. Oh no, gli è caduta la pizza. Ciro ci è rimasto male, ma non si abbatte e ne va a comprare dell'altra. Non vede l'ora di mangiare di nuovo. Oggi c'è molto sole e la luce infastidisce Ciro. Ciro ha bisogno degli occhiali da sole. Pizza occhiali, pizza occhiali, pizza occhiali. Niente da fare. Ha scelto la pizza. Una pizza, due pizze, tre pizze. Ne arriva a mangiare fino a dieci. Ciro non si sente in forma, ma cercando sul web ha trovato una soluzione per dimagrire facilmente. Il fumo. Passa un mese e Ciro è soddisfatto della sua scelta. Passano sette mesi, ma non è cambiato nulla. Passano quattro anni e Ciro ha ormai due dipendenze, il cibo e il fumo. Ciro ha uno stile di vita scorretto. Non essere come Ciro, informarsi è importante, ma non farti ingannare. Proteggi i tuoi occhi, fai attività fisica, proteggi la tua salute. È un tuo diritto.